Fare qualcosa e fare presto, archiviata la stagione 2021-2022 a Teramo come ampiamente prevedibile tempo di verificare le condizioni per la prossima, che passano da una schierita della situazione dell'attuale reggenza. Davide Ciaccia, dopo la partita con la Reggiana, aveva dato uno scadenzario, chiaramente non tassativo, dei passi con l'imprenditore Giuseppe Spinelli. Ma la fattibilità del tutto, come poi hanno tenuto a precisare i reggenti nominati dal Tribunale di Roma a stretto giro, passa inevitabilmente dal giudizio complessivo che ne darà l'autorità competente in merito. Per questo è difficile, per non dire impossibile, capire quali siano i margini per una via d'uscita e quale possa essere, considerando che la totalità delle quote del club prevede anche la figura dell'ormai ex presidente Franco Iachini, che detiene il 9%, e la società a lui riferibile, la Ismedia, che invece ha il 31%. Come e con quali tempi Spinelli potrebbe entrare nel termo sono domande che al momento non possono avere una risposta certa. Se vi siano altre cordate che stiano verificando la portata del progetto bianco-rosso, nemmeno. Anche se l'ex patron Luciano Campitelli, prima di pescare a Carrarese, ai nostri microfoni aveva risposto così. Se domani la dovessero chiamare il primo cittadino o chiunque, lei risponderebbe presente? Io potrei dare la mia piccola mano come persona che vive all'interno di una provincia che è Teramo. Il futuro del Teramo, il futuro per me più importante che possa fare Teramo, mettere insieme 5-6 imprenditori che possono dare un valido contributo, e ci sono, per poter far sì che Teramo torni a essere quella che con la sua autonomia è avere una continuità ed una logica a lungo termine. Perché credo che oggi la Serie C possa andare avanti solo a queste condizioni, non con un solo uomo, perché un solo uomo al comando locale è difficile da trovarsi. I tempi ristretti servirebbero soprattutto per disegnare le linee guida di una stagione che sembra lontana adesso, ma che in realtà vedrà a fine giugno il primo passaggio cruciale, ovvero quello relativo agli adimpimenti per l'iscrizione al torneo 2022-2023. La Rosa, al netto dei giocatori in scadenza, chiaramente ha degli elementi sotto contratto, ma altrettanto chiaramente in quantità ristrettissima. Andrebbe affrontato il discorso legato alla parte tecnica dell'allenatore, l'eventuale conferma di guidi e il progetto calcistico da mettere in piedi. Ad esempio, nella nota appena conclusa si era partiti con la linea verde, per poi virare verso una soluzione con più esperienza. Poi ci sarebbe la parte dirigenziale, gli eventuali rinnovi di direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica. Insomma, una serie di cose da verificare, che di panare presto i dubbi avrebbe un impatto positivo su una stagione che in caso contrario rischia di essere di sofferenza ancora maggiore.